Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella ragazzi bentornati qui sul canale GRAN Siamo tornati oggi con un nuovo pack opening Sono stati i pacchetti dove ci stanno tutti i toti E quindi si vogliamo trovare qualcosa perché abbiamo trovato un cazzo A parte Suarez che... E guardate cosa cazzo ci sa Ci sa, ci sa, ci sa Ci stanno due pacchetti da 100.000 crediti La cosa bella è che io ci sa, l'ho detto comunque Ci sono due pacchetti da 100.000 crediti di tutti oro e rari E questi li apriremo subito, no Comunque poi ci sono oltre a questi Non questi, oltre a questi Ci sta anche questo Da 35.000 che ha 30 oggetti Tra cui 26 oro e 18 orari Anche se non sono tutti i giocatori Invece questi qua sono tutti i giocatori Quindi abbiamo 5, quindi abbiamo 2 Apriamo sicuramente questi Poi non sappiamo se facciamo tutto il milione Attenzione Tac Tac, 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 tac E' un altro Magari, magari E' un po' come Finita certo Oh, in... Oh, che rera Subito, quip Mamma mia E finisce qua Questo lo sapete cosa vuol dire? Che non cazzo Che troviamo solo due pacchetti Che troviamo più un cazzo Quanto vale? Quanto dice Quanto dice Quanto dice Quanto dice Quanto dice Quanto fa a culo Quanto a Quanto a Quanto a Ma the cazzo Ma ci trovo proprio Attenzione Attenzione per me ti prego mamma voglio un toti oh oh no non è possibile regà non è possibile no è quello di prima ma tolato lo stesso tu volte quanta possibilità c'è lo stesso if 2 volte come buttavo con un giocatore che palle ma che pordi dai, almeno la 108 if, cioè almeno quello che sto cittadino e non lo so come si torna dai normali e rodriguez c'hai che tu che ha messo le cose non ho trovato si invali 20.000 sti cazzo è una bestia ah... ramos... oh vede è stato trovato 40 volte vai ramo vediamo herrera if che palle dai alves, diego alves, milito addirittura hanno dato un pochetto gratis oh va grandi grandi diego alves grandi mister lo buttiamo lo buttiamo vediamo un po' pochetti bronzo vai così azar vai pensate che fanno un po' di quasi pochetti magari guarda ti prego non succederà mai bello bello paille 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 che già ci abbiamo tra l'altro allora 35.000 questo è sofferto quindi lo apriamo e troviamo un cazzo attenzione 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 ooooh ooooh oddio il Chris il Chris ma ancora giovane questo è il più forte con un casco di banana in testa vabbè però che cosa io li è buono da una parte questi scattano tutti tipo a quinta volta lo amo però vabbè attenzione ragazzi eccolo ecco da 100.000 ma lo schifo pure guarda no 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 lo schifo d'ammazzo da 100.000 sta piotta si arrivamo casiglia casiglia 3 4 3 4 4 i 3 su cos'è una cascola la città di calo la scarta di tutti sti cazzo aspetta che questo qua vale e la città la città si fa una canna come mamma attenzione attenzione mamma ultimo occasione ultimo occasione un pacchetto ragazzi se non va adesso non andrà mai probabilmente non andrà mai ma io mi accontento pure di un ronaldo ruolo eh cioè ruolo 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 attenzione ronaldo ruolo bravo bravo dal pacchetto di merda se sappia per culo bene eh vabbè ci sta vabbè senti aprimolo un po' da 15.000 tra qualcuno grazie grazie molto partecipe in questo pacchetto vabbè guai l'altro te muoiamo finito mamma attenzione svegli wow muri 2 mila ci stanno con essi ecco c'erano un culo questi pacchetto che mi mamma mia abbiamo trovato 2 if di seguito tenetti conto vediamo leonessi cosa ci darà mi 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 Grazie a tutti.